A maggio l'appuntamento con Master of Magic, qual è il programma? È un programma straordinario perché avremo 100 ore in interrotte di magia, Sun and Sun, Resort e Casinò, dove 1500 maghi da ogni parte del pianeta si troveranno insieme per inventare i nuovi prestigi che stupiranno adulti e bambini di tutto il mondo. Ma la cosa affascinante è che ci saranno degli spazi aperti al pubblico, in via assolutamente esclusiva perché sapete che è vietato entrare nel mondo dei maghi, ma io sono un po' matto, è oltre che mago, e quindi voglio e credo nella contaminazione delle idee. Perciò il 13 e 14 maggio ci sono due gran galà di magia con otto artisti internazionali, un evento unico, veramente leggendario, straemozionale, perché dal vivo avrete la possibilità di vedere un galà di magia come forse non vi è mai capitato di vederne nella vostra vita. Quindi vi invito ufficialmente, 13 e 14 maggio, per vivere due ore incredibili di emozioni magiche. I nomi degli artisti presenti? Beh allora, quest'anno avremo Copperfield, in collegamento via Skype da Las Vegas, che ci svelerà in una session segreta alcuni dei suoi più importanti segreti. Poi abbiamo Shim Lim, che è il campione del mondo, uno dei maghi più cliccati su YouTube, oltre a Raul Caremona, oltre ai classici Silvan, Brachetti, Alexander, insomma i migliori artisti italiani che fanno da contorno ai più grandi artisti internazionali. Alcuni di questi magari non li conoscete per nome, come Shim Lim, ma sicuramente vi sarà capitato, se state su YouTube, di vedere le sue magie. E l'avete visto su Canale 5, nel Masters of Magic, che era il campionato del mondo di magia, in onda pochi mesi fa, con i più grandi talenti mondiali. Che saranno sul palco di Sam & Sam? La novità per questa edizione? La novità è che apriamo anche ai manager, perché insegniamo ai manager a pensare come maghi, quindi ci sarà una sessione segreta e privata, dove non potranno vedere tutto, ma impareranno la forma di pensiero dei prestigiatori. E quindi anche i manager potranno iniziare a realizzare magie in azienda. Lo spirito piemontese di questo appuntamento? Beh, nel pragmatismo, perché io sono ovviamente sabaudo doc d'origine, lavoro a Sam & Sam Resort e Casinò con orgoglio da moltissimi anni, anche perché siamo praticamente cugini come vicini di casa. Il piemontese è una persona che lavora tanto, 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 ci mette tanto cuore, tanta passione, tanta determinazione, perché vuole arrivare a successo e poi lo dice sottovoce. Ecco, noi siamo arrivati, e adesso mi permetto, visto che ci siamo arrivati, di dirlo con orgoglio, siamo leader al mondo per eventi live e tv legati alla magia, abbiamo prodotto il campionato del mondo di magia, che è stato il più grande evento anche nel Guinness dei Primati, quindi è ufficiale, la trasmissione di magia con Gerry Scott, che è stata una delle più grandi trasmissioni di magia del pianeta. Insomma, siamo diventati bravi e ci fa piacere condividere queste emozioni con voi. Per quello vi invito.